Oramai taluna in situazione a battipaia sono divenute talmente frequenti da divenire normali, sebbene di normale ci sia ben poco. Classico esempio di questo triste asintoto sono le microdiscariche a cielo aperto disseminate in città. Alla base c'è sicuramente tante inciviltà, ma di contro non si può non parlare anche di un certo abbandono da parte di chi dovrebbe invece tenere pulite le strade cittadine, nessuna esclusa. Nelle scorse settimane questa emittente ha parlato di vari cumuli di rifiuti in una strada secondaria, ma oggi ancora una volta si raccolgono le denunzie di diversi cittadini del centro sullo stato delle cose di via Spineta, già oggetto di inchieste. La breve strada di collegamento tra il centro battipaiese e alcuni quartieri residenziali è una vera e propria discarica. In quei pochi metri si trova di tutto, da sacchi pieni di spazzatura, simbolo della più bieca in civiltà, a vecchi elettrodomestici. Il canale di scolo che costeggia l'arteria poi non è praticamente funzionante, dato che è otturato da ingenti quantità di rifiuti abbandonati nell'ambiente e che nessuno raccoglie. Palazzo di città e dunque le tasche dei cittadini pagano profumatamente la società Alba per numerosi servizi, tra cui quello dell'igiene urbana, un servizio che non è espletato e a dirlo non è il cittadino o l'operatore dell'informazione, ma le immagini molto più forti di qualsiasi parola. C'è di tutto su via Spineta e non si tratta di una strada secondaria, che ha anche ogni diritto. È una vergogna le parole di un residente. Purtroppo siamo inascoltati e nessuno fa nulla. C'è una società molto ben pagata che dovrebbe garantire la pulizia, ma ciò non viene fatto. A breve, con l'arrivo del caldo, inizieranno i cattivi odori e la presenza di animali ed insetti. Siamo pieni di zanzare e spesso troviamo grandi ratti nei pressi delle nostre abitazioni. Insomma, conclude, siamo abbandonati a noi stessi. La stessa situazione in altre strade ben più centrali pare sia la medesima, almeno stanto alle denunzie dei cittadini.